Nelle calde giornate estive un fresco gelato al cioccolato è proprio quello che ci vuole. Benvenuti in Cuscina per Te. Oggi prepariamo in soli 5 minuti un gelato variegato al cioccolato dal gusto davvero sorprendente. Vediamo quali sono gli ingredienti e prepariamolo insieme. Per circa 400 g di gelato occorrono 250 ml di panna fresca non zuccherata, 150 ml di latte condensato, 20 g di cacao amaro, 70 ml di topping al cioccolato fondente e scaglie di cioccolato fondente. Iniziamo la preparazione versando la panna fredda di frigorifero in una ciotola. Con le fruste elettriche la montiamo a neve non troppo ferma. Aggiungiamo il latte condensato e mescoliamo bene. Uniamo anche il cacao amaro e amalgamiamo tutto. Poniamo una parte della crema ottenuta in un barattolo munito di coperchio. Versiamo metà dose di topping al cioccolato. Aggiungiamo il resto della crema. e del topping. Con l'impugnatura ad un cucchiaio da cuscina distribuiamo il topping nella crema girando sempre nello stesso verso. Decoriamo la superficie del gelato con le scaglie di cioccolato fondente. Chiudiamo con il coperchio e poniamo tutto in freezer per almeno tre ore. Il gelato va riegato al cioccolato e pronto. Spero che anche questa videoricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando continuate a seguirci sul nostro sito web ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Un saluto e alla prossima videoricetta.